Atto intimidatorio nei confronti del sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, che nei giorni scorsi ha trovato nella cassetta postale una busta contenente due proiettili. Un gesto che ha scosso profondamente una comunità come quella di Roscigno, abituata alla serenità e alla sicurezza dei luoghi. Tanta la solidarietà ricevuta dal primo cittadino per il vile atto di minaccia, con il direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, tra i primi ad intervenire e a condannare il gesto. Non sono noti i motivi della minaccia e il perché dell'atto intimidatorio su cui al momento stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina al comando del capitano Davide Acquaviva, a seguito anche della denuncia presentata dalla stessa vittima, che oltre a ricoprire il ruolo di sindaco di Roscigno è stato anche in passato presidente della comunità montana degli Alburni ed è maresciallo della Guardia di Finanza. Tantissimi messaggi di solidarietà nei confronti del sindaco Pino Palmieri con il direttore della Banca Montepruno con sede legale proprio a Roscigno, che ha voluto da subito manifestare pubblicamente la sua vicinanza al primo cittadino, condannando fortemente il vile atto che ha anche scosso una comunità come quella di Roscigno ma anche dei comprensori degli Alburni e del vicino Vallo di Diano, profondamente rispettose e che si distinguono per il forte senso di civiltà. Pino Palmieri, spiega albanese, deve sapere che non è solo perché ha il sostegno mio personale di tutta la parte sana della nostra comunità. Queste deprecabili azioni non riusciranno a destabilizzare il territorio e minare la pace sociale e sono certo neanche affermare la sua azione e le sue idee. Un gesto che secondo albanese deve essere visto come un incentivo ad investire ancor più nella legalità, nel rispetto delle regole delle persone e nell'educazione ai sani valori tra la comunità e le istituzioni.